Vandalizzato nella notte l'arco d'ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo a Milano, alcuni uomini vestiti di nero hanno imbrattato la facciata con delle bombolette spray. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco che con un'autoscala hanno verificato l'entità dei danni al frontone della struttura, datata 1865. Subito scattate le indagini per individuare i responsabili del gesto anche grazie al fitto sistema di telecamere presente in zona. Forte l'indignazione che sta viaggiando anche sul web.